La mia esaltazione che è rivolta anche alla Fraternita dei Laici in modo particolare, visto che da lì sono arrivate anche le richieste per le residenze anagrafiche, è quella di far capire che questa collaborazione deve essere bilaterale. E non può capirlo probabilmente qualcuno che viene dall'Africa piuttosto che da altre realtà che magari non si rende neanche conto di questo. Per cui parliamo di diritti ma parliamo anche di doveri. Ad accendere la polemica il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Per il primo cittadino infatti a fronte delle 11 richieste per la residenza anagrafica nel comune di Castiglion Fiorentino non si sarebbe registrata altrettanta disponibilità da parte dei migranti ospitati in due strutture presenti nel territorio di cui una cura della Fraternita dei Laici a svolgere lavori socialmente utili in convenzioni con il comune. A fronte dei circa 50 migranti che sono presenti in queste due strutture di Castiglion Fiorentino la disponibilità, visto che tutto si basa sulla loro volontarietà, a collaborare a progetti socialmente utili è di circa un quinto dei 50 migranti che sono presenti. Io credo che queste persone che rappresentano una vera e propria emergenza e quindi rifuggo anche qualunque titolo di razzismo eccetera devono essere integrate anche attraverso questi progetti che non devono essere una sorta di lavori forzati ma possono permettere una maggiore inclusione anche sociale con un apprezzamento anche dei cittadini. Io ritengo che questo maggior coinvolgimento sui lavori socialmente utili non solo per il mio comune, quello di Castiglion Fiorentino ma in generale dovrebbe essere un punto fermo anche dell'accoglienza altrimenti ci si preoccupa di trovare un tetto, di dare da mangiare a queste persone e poi magari la gente comune li vede in giro con gli auricolari e ovviamente manifesta un malcontento che è anche legittimo.